Neuro e 50, il nuovo duo nato all'Officina delle Arti. Ma perché tu ti chiami Neuro? Io Neuro perché è un gioco, diciamo, in un doppio senso tra Neuro, che sono mezzo esaurito, mezzo un po' folle. Mi piace la follia, ma la follia è quella buona. Ma tu non ti senti un po' svalutato a chiamarti 50 centesimi? Sinceramente no, perché io con 50 centesimi pago di meno le tasse, quindi sono... Sta bene, insomma. Assolutamente, sì. Io con una donna non ho mai avuto il feeling che ho con lui. Cioè nel senso... Nel senso. No, no. Nato come matrimonio di interesse, mi sa che questo evolverà, no? Verso altre strade. Guarda, non so se l'abito fa il monaco. L'importante è che il monaco non si faccia l'abito. Vabbè.